Il Ministero delle Infrastrutture si è giudicato incompetente ad approvare la deroga per la concessione dei 20 milioni per la realizzazione degli interquartieri. Loreta Manocchi, come considerate questa decisione che è penalizzante per Fano? Sì, è penalizzante e oggi perde Fano, ma la responsabilità è in capo al primo cittadino e alla Giunta che nel corso di questi cinque anni non è stato capace di impiegare e investire una somma che Fano non ha mai visto. Le possibilità e le alternative c'erano, i nostri dirigenti regionali, penso anche all'assessore Baldelli, ha formulato varie proposte dove potevano essere investite delle somme, somme che avrebbero sicuramente migliorato la viabilità di Fano, ma che per ragioni politiche, per ragioni strettamente interne al PD e all'attuale Giunta, hanno portato ad insistere sulla variante di Gimarra che era assolutamente una decisione scelerata laddove le somme, i 20 milioni non erano assolutamente sufficienti, dove sono cambiate le condizioni rispetto al 2018 e che quindi perde Fano, perde 20 milioni, una somma appunto che non ha mai visto e questa è assolutamente una decisione politica, nonché tecnica, assolutamente scelerata. Nel frattempo ci sono state impiegate delle risorse economiche, anche per la progettazione, che chiaramente vengono meno. Ci auguriamo che comunque anche con la spinta del centro-destra queste somme non vadano assolutamente del tutto perse, ma possano essere riempiegate per la città di Fano per una diversa viabilità, non certo per quella strada. Alessandro Brandoni, la viabilità fanese continua a rimanere nel caos, nonostante appunto la bocciatura di questo grande, grande progetto. Ora, quale sarà l'atteggiamento della Lega? L'atteggiamento della Lega sarà quello di sempre, un atteggiamento costruttivo e con una visione del futuro chiara, quella che purtroppo non ha avuto questa amministrazione. Nel programma di mandato avevano detto che avrebbero realizzato le opere aduttive al nuovo casello del Fenile e tutta una serie di opere per la viabilità dei quartieri interessati, quindi Fenile, Rocco Sambaccio. E invece non è stato così, a un certo punto hanno deciso di provare a fare una strada che portasse verso nord passando per Gimarra. Nessuno ancora ha capito per quale ragione c'è stato questo cambiamento e alla fine siamo arrivati in una situazione dove una parte della Giunta voleva quest'opera, la parte relativa del PD, e una parte, quella delle liste civiche, non aveva nessuna intenzione di farla. Siamo arrivati all'ultimo momento utile e disponibile, quello di giugno. Con un voto risigato in Consiglio Comunale c'è stata l'approvazione di quest'opera, ma ormai era troppo tardi e adesso i soldi sono persi. Purtroppo sono persi per Fano. Noi cercheremo di recuperarli per avere delle opere diverse. Chiaramente siamo ancora contrari a questa strada e non possiamo dire che vogliamo portarla avanti. Abbiamo perso l'edipio, non si può mai essere regolato.